Prima di lasciarvi un nuovo episodio ed ultimo della stagione della Chairman Mode, volevo ricordarvi che ci sono nuovi giochi e soprattutto nuovi sconti sul sito di Niba. Come sempre ragazzi, per maggiore info, consultate il link in descrizione. Io credo che Arteta sia praticamente continuando quanto ha iniziato Davide Ancelotti, cioè un Milan incostante. Un Milan che gira, cambia, gioca con giocatori diversi, a livello dei risultati però non tanto convincente. Ma bisogna andare atto, non ad Arteta, però è Arteta per ora la guida del Milan, quindi sì, si prende comunque i meriti, di essere al primo posto. Incredibile, cioè commentiamo un mese di gennaio e febbraio fatto di incostanza ovunque, tra Europa e campionato, più l'eliminazione in Coppa Italia dalla Juventus. Nonostante tutto però c'è chi fa peggio, c'è chi fa peggio, c'è anche chi ha gli stessi nostri punti, come Napoli-Inter, c'è chi ha un solo punto in meno, come l'Atalanta, c'è chi ne ha due in meno, come la Roma, c'è chi ne ha quattro in meno, come la Juventus. E stiamo commentando le prime sei posizioni nella classifica, è veramente incredibile. L'episodio, tra l'altro, inizia subito con una sfida, con un ostacolo molto difficile, molto importante, perché affrontiamo la miglior squadra per ora del campionato. Non è prima, ma è quella che sta vivendo il miglior periodo. Sono cinque vittorie consecutive del Sassuolo, almeno questo è quello che ci offre il gioco. Poi se io clicco sul Sassuolo, magari notiamo che sono ancora di più, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sono cinque in campionato, ma sono comunque sei vittorie consecutive, considerando anche la Coppa Italia. Quindi stanno vivendo un periodo fantastico. Il Sassuolo di Dionisi, sempre lui. Il Sassuolo di Pinamonti, me lo son visto prima. Il Sassuolo di Messias, che avevamo già affrontato appunto all'andata, questo è il ritorno. E Messias, state tranquilli perché sarà titolare. Il mercato è stato proprio fondamentale, ragazzi. Il mercato in entrata del Milan, di Sabatini in generale, la sessione più importante, però era più vincente. Però quella che ci ha portato più risultati positivi è stata l'ultima che abbiamo affrontato. Due soli colpi in entrata, due colpi però che hanno dato la svolta alla stagione rossonera. Il primo, Pedro, nuovo attaccante. Tantissimi nomi nel reparto offensivo, sicuramente un nome che non... È conosciuto da pochi, prevalentemente per i tifosi viola che l'hanno visto coinvolto pochissimo qualche anno fa. E poi, vabbè, per quelli che giocano FM, perché sanno comunque che negli ultimi due stagioni la sua scheda è nettamente migliorata. Soprattutto con quest'ultimo aggiornamento che ci presenta una scheda straordinaria, ma a livello di fama, diciamo, che è ben al di sotto di altri grandissimi attaccanti. Lui è adesso il bomber del Milan, è arrivato, ha segnato, 11 presenti, 7 gol, secondo me una buona media da quando è arrivato in Italia tra il campionato ed Europa. L'altro colpo, bisogna ringraziare l'infortunio che abbiamo avuto in mezzo al campo, perché Ben Nasserra sarà fuori per praticamente tutta la stagione, o quasi. Al suo posto, in lista di trasferimenti, c'era un certo mago di nome, Luis Alberto. Il mago Luis Alberto è arrivato e ha fatto il devasto, da quando è il giocatore del Milan ha collezionato 6 assist, 2 gol, più un assist in Europa League. Un impatto così, ragazzi, credo nessuno, degli acquisti fatti da Sabatini. Non abbiamo parlato però di spareggio Europa League. Quindi, riviviamo, rivediamo i gol, le emozioni del doppio confronto contro la RSS Dad. È stato un confronto non scontato, non facile, nell'andata, nel ritorno. All'andata è risultato sorprendente, perché passiamo in vantaggio relativamente presto, al minuto 24, con chi? Con il nuovo rivato, con il brasiliano, Pedro. E poi il gol, a 10 minuti dal termine, unexpected con Sadik. Qui, Oyarzabal, un errore non da Oyarzabal. Luis Alberto ne approfitta, Luis Alberto assist, il suo primo per ora in unico in Europa, con la maglia del Milan. E poi Pedro, che riesce a superare agevolmente Remiro. Siamo però, appunto, al minuto 80, in una partita che stavamo dominando fino a quel minuto lì. Fascia sinistra, fascia nostra, destra, totalmente libera. E poi Oyarzabal, questa volta, ne approfitta per servire un bel pallone per Sadik, che riesce a superare Mignan. Ci siamo salutati con Real Sociedad Milan. Il ritorno non è l'ottantesimo, era il settantottesimo. Zaccagni, a sorpresa, ci manda direttamente agli ottavi di finale. Qui, appunto, l'azione, il contropiede Milan, con Brem Diaz, De Ketelare. E poi uno Zaccagni, letteralmente solo, complice anche di deviazione sfortunata di un difensore della Real Sociedad. Ne approfitta il Milan e gli ottavi. Non so contro chi. Le migliori, le teste di serie, quelle che hanno vinto il rispettivo girone, che sono passate da prima. Arsenal, Monaco, Atalanta, Salisburgo, Marsiglia, Lione, Sassuolo e Villareal. Contro le non teste di serie, quelle che hanno superato gli spareggi. Colonia, Milan, Aston Villa, Atletic Bilbao, Newcastle, Standard Liege, Sangallo e Valencia. Valencia contro Atalanta, Aston Villa contro Sassuolo, Atletic Bilbao contro Salisburgo, sarà Milan sotto Marini Gialli. Quindi un'altra spagnola nel percorso europeo della squadra di Arteta, Arteta Spagnolo, che riaffronterà appunto un'altra spagnola, il Villareal. Sicuramente pericolo numero uno rappresentato dall'attaccante spagnolo del Villareal. Tra l'altro sfida che vedremo oggi. Sì, Quezze, Jeremy Pino, Baena, Pareco, l'esperienza, la difesa formata da Pautor e Squenca, due giovanissimi, fortissimi su FM nella realtà. È una squadra molto forte, un grande allenatore rappresentato da Koeman. È decisamente una bella squadra, molto pericolosa, molto forte, mix di giovani di esperienza. Sarà una bella sfida. Subito gara decisiva per mantenere il primo posto, per mettere pressione a quelle che stanno lì. E per non assistere momentaneamente al confronto contro il nostro ex Messias, perché è stato depositato in panchina, mentre invece De Chetelare torna a occupare il ruolo di seconda punta, ma comunque di attaccante del Milan. Vediamo Kefren Turan, vediamo la conferma di Luis Alberto, fondamentale Luis Alberto in queste ultime partite. Venga là. Si lancia Berardi. Teo, chiaramente in ritardo lì, perché stava recuperando la posizione. Ricordiamo anche qualcuno nei commenti su YouTube, mi ricorda che questo Milan avrebbe bisogno anche di un nuovo difensore centrale. Se dovessimo rimanere in estate, ragazzi, chiaramente un difensore top centrale va preso. Zaccagni, Ricci, Luis Alberto, Turam, potrebbe calciare. Cerca De Chetelare, non lo trova. Cerca Zaccagni, lo trova. Teo, potrebbe calciare. Teo, De Chetelare! Cdk, 1-0 vantaggio a Milan, settima rete stagionale per il Belga. Bravissimo Teo, essere lì sul filo del fuorigioco, ma comunque essere in una posizione regolare per mettere poi al Milan di passare in vantaggio e poter servire l'assist. Perfetto, il bacio per Cdk è dato Kefrem. Kefrem, c'è De Chetelare. Kefrem va da solo, ci vuole un super turati. Berardi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ho visto la parata Laser Mignan. La parata Laser Mignan. Avanza con personalità. Serve Pina Monti, Berardi, il taglio di Bairami. Bairami potrebbe pensare al tiro, invece va a servire Pina Monti, signori Calulu. Signori Calulu, signori Calulu come un gol. Come se avesse segnato. A proposito di segnare, De Chetelare. A proposito di segnare, De Chetelare, palo! Mamma mia, siamo passati dal quasi gol Sassuolo al quasi gol Milan. Nella stessa azione. Ho dentro Zanoli, dentro Ziyech. Chiaramente ragazzi, ogni volta lo dico, sono bug grafici quelli che vedete. Se io adesso metto Statistiche Milan, torno su Formazione Milan, la condizione di Zanoli e Ziyech, di Castrovilli, di Pobega, che sono i quattro giocatori che sono entrati, è naturalmente ottima. Quindi no, non è che artete pazze mettere i giocatori in mezzi rotti. Semplicemente il gioco che ci impiega, che ha questo, diciamo, piccolo difetto grafico. E il Sassuolo, dopo sei vittorie consecutive, dopo cinque vittorie consecutive in Serie A, viene fermato, perde contro il Milan, che invece continua il suo buon andamento. Non ottimo, ma buon andamento. Bravi ragazzi. L'Europa League sarà consecutiva. Giovedì, giovedì. Senza nessuna partita di mezzo. L'unica partita nella quale potremmo andare in difficoltà sarà questa con la Juve, perché giochiamo poi domenica. Domenica, giovedì su domenica, hai neanche un giorno per prepararti, perché il giorno prima della partita è la prepartita e tutto, l'analisi, lo studio sugli avversari. Mentre il venerdì è il recupero post-trasferta allo stadio della Seramica. Milan, attenzione, perché qua vedo una Serie A che va a favore dei rossoneri, perché la Roma ferma l'Inter. Il Napoli perde contro l'Udinese, il Milan potrebbe essere da sola, la davanti, a quota 59. Lazio-Milan, la Lazio non più di Sarri, non più di Gattuso, ma del traghettatore Stefano Firicano. 4-3, non esattamente come il 4-3-1 di Gattuso, ma si ritorna un po' alle origini. Quelle dove quando appunto allenava Sarri. Ritorna Pedro, titolare, non l'avevamo visto coinvolto nell'ultima partita di campionato. Pedro, Turam, Hakim Ziyech, Luis Alberto, Kefren, Turam, Ricci in mezzo al campo. E poi la classica difesa, il classico Milan dietro. Turam, Marcus, Vada, Ricci, che prova a calciare attenzione, poi Ziyech ancora. Turam, intanto scusate ma devo fare un controllo. Ok, Arteta Cam, due secondi. Calabria, Ziyech. Andiamo dietro da Calabria il cross. Turam, mamma Provedel, ti diciamo grazie Provedel. Turam ringrazia Calabria, ma ringrazio soprattutto Provedel che fa un'uscita orribile. E Turam, facile facile, la deve solamente appoggiare. Rivediamo il replay con Calabria che di prima intenzione dentro il cross, la direzione in realtà era per Pedro. Poi Provedel anticipa l'uscita, forse un po' troppo. Si perde il pallone. Non lo perde Turam. Che ne approfitta. Potrebbe addirittura anche pensare di andare direttamente in porta traversa, mamma mia. Direttamente da Luis Alberto, che apre e lo fa in maniera spettacolare per Hakim Ziyech. Qui ci distendiamo bene, Ziyech. Non punta l'uomo, sempre per Calabria. Un passaggio particolare per Castrovilli. Cross teso. Pedro! Grazie ancora Provedel per la parata un po' così. Pedro, Milan 2, Lazio 0. Risultato quasi in cassaforte, ma Arteta Ball fortissimo. Perderono nuovamente palla. Pobega, Castrovilli. Tre minuti più eventuale recupero. Castrovilli. Si addormenta un po' e ne approfitta Gagliardini. Roby Gaglia. Tomori perfetto. Patrizio non è finita Oscar dentro. E c'è il gol di Kjukhaniv. Però l'Olimpico. Finisce qui. Lazio 1, Milan 2. Seconda vittoria consecutiva. Milan primo da solo. A 59 punti. Vuoi sminuire il lavoro di Arteta? È che non mi sbilancio ragazzi. Non mi sbilancio perché il Milan... Cioè, secondo me davvero per ora né Arteta né Ancelotti hanno raggiunto lo spettacolo di Pocettino. Pocettino era veramente spettacolo. Però aveva quel difetto di non cambiare mai. Arteta aspetta ancora un po' per me di giudicarlo. Questa è la formazione Milan nel frattempo. Questo che sentite anche l'inno dell'Europa League. La formazione tolare che mi sembra la solita, la classica. La formazione Villarreal che... Ah, anche mi sembra insomma... Non proprio la stessa. Attenzione perché Gerard Moreno è in panchina. Non capisco questa scelta da parte di Mr. Koeman. Baina là davanti, Gerard Moreno in panchina. E quel ciuquezze ha forse il difetto di essere mancino. Quenca intanto calcio di rigore. Calcio di rigore ragazzi. Probabile tocco di mano. Mamma mia pareco contro Mignan. Anche se non esistono i gol in trasferta. Prendere gol è comunque brutto. Spiazza Mignan 1-0 Villarreal. Corner Milan, Luis Alberto dentro. Pau Torres allontana. Zaccagni. Si va da Teo. Che non può calciare disturbato da Tomori. E allora Teo Hernandez. Teo si libera. Teo dentro. Pedro. Zaccagni! Perché non ci ha messo potenza in quella conclusione? E poi perché loro hanno un portiere super? Gestisce, controlla, Luis Alberto. Inventa come sempre. Brahim. La posizione sembra irregolare. Sembra irregolare. Zaccagni! È fuori gioco. Perché non si è fatti i cazzi suoi ragazzi? No, no. Lo voglio rivedere. Lo voglio rivedere. Probabilmente la palla sarebbe entrata comunque. Zaccagni. Ah no, ok, ok, ok. La posizione di partenza di Brahim Diaz era irregolare. È un episodio dubbio, quello sul loro calcio di rigore. Poi per il resto niente. È un Milan che costruisce tanto. Milan che ha il pieno controllo della situazione. Ma è un Milan che non riesce a segnare. Intanto tanti cambi. Abbiamo visto Zanoli. Non sarà l'unico cambio. Ne avrà fatti sicuramente altri. La difesa è rimasta questa. Pobega è subentrato. Ricci è stato alzato con Pobega sulla mediana. E ora proprio Pobega. Luiz Alberto cerca Brahim. Lo trova. C'è Pedro. Tutto solo Pedro. Tutto solo Pedro. Uno a uno. E manca un quarto d'ora più. Un recupero importante. Pedro. Si riparta. Attenzione perché qua il Milan potrebbe costruire una cosa interessante. Però Mignan sembra essere più indirizzato. Esatto. Al rinvio lungo. Alberto Moreno. Quenca. Ciuqueze. Ciuqueze. Bravissimo Marco Sturam. Allora Pedro. Ricci. C'è Turan tutto solo. C'è Pobega tutto solo. C'è il mondo tutto solo. Mamma ragazzi. Qui Pobega. Grande errore. Si è lasciato ingollosire dalla possibilità di andare a tiro. Doveva tirare meglio sicuramente. Ma aveva comunque tanti compagni da poter servire. Finisce la partita San Siro. 20 tiri. 9 in porta. XG di 2.54. Contro i 4 tiri. 2 in porta. È un XG. Gonfiato solamente per il rigore concretizzato da Pareko. Questa è la formazione. Quindi Baena ha confermato titolare. Poi mandi Moreno. Alberto Moreno. I due terzini che vanno a sostituire Pedrasa e Agu. Il Milan risponde con questa formazione. Con questo 11. Pobega Ricci-Turam. In un centrocampo interamente italiano. Kefren-Turam deve ancora scegliere in che nazione stare. Marcos Turam ha già preso questa scelta francese. Ma suo fratello potrebbe volendo sposare poi il progetto di Roberto Mancini. Mamma Ricci. Rigore in movimento. Grande occasione per il Milan per passare in vantaggio con Ricci al primo tempo. Intanto Pobega. Turam. Dietro per Calulu. Teo viene contrastato. Attenzione a Mandi che ha anche una munizione. Qui Calabria ha spazio per crossare. Tenta il cross di prima. Zaccagni va direttamente in porta. Si è lasciato ingolosire lì Zaccagni. Una marea di occasioni Milan. Ma non si trova il vantaggio. Il Vigliareal non ha fatto praticamente nulla nell'andata. Nel ritorno Pobega. Si fa perdonare. Pobega. Non ci ha dormito su all'andata. Con quell'occasione al minuto 90. E dormirà sonni tranquilli probabilmente. Forse non dormirà forse nemmeno stanotte ma per l'emozione. Per il gol per ora qualificazione. Bella si inquadratura ragazzi. E che è la regia dell'UEFA. Guarda qua. Ma che inquadratura era. Bellissima. Va a cambiare lato. No. Va a cercare Ciuqueze. Però qui è ancora possesso loro. Calcio di rigore. Vediamo se l'angolino sarà lo stesso. Vediamo cosa farà. Mignan. Cosa farà anche Pareko. Al minuto 75. Parte Pareko. L'angolo è sempre lo stesso. Mignan aveva capito. Ma la palla entra comunque. Dentro De Ketelari intanto. Dentro anche Zanoli. Là davanti non vedo cambi. E probabilmente ne vedremo adesso di cambi. Il Milan. No. Aspetta. Sono finiti qui i cambi. Vediamo se gli slot li ha sfruttati tutti. 82. 82. 76. 82. No. In teoria. Ha ancora dei cambi. A disposizione. Arteta. Poi. Ha sofferto tantissimo l'arrivo di Davide Ancelotti. Sembrava essersi ripreso con Arteta. Però. Ancora una volta. Ha un'ingenuità sua. Diciamo che mette in difficoltà. Mette in crisi il Milan. Calulu. Pobega. Zanoli. Praticamente per Hakim Ziyech. Bravissimo Hakim Ziyech. Come è entrato Hakim Ziyech. Allora il supporto di Zanoli. Il crosso secondo palo. Tu. Rami il palo. Un calma per Meignan. Andiamo a sviluppare l'azione sulla fascia sinistra. Dove c'è Teo. De Chetelare è entrato malissimo. 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 De Chetelare fa così. Allarga le braccia. Però. L'errore. È tutto suo. Il Milan. Ha un minuto adesso. E finisce qui. Finisce l'avventura. Rosso-nera. In Europa del Milan. In questa stagione 23-24. Non ha senso quello che abbiamo visto. Non ha veramente senso. Quasi uno se ne dimentica. Di Marco Solonardo. Lui chiaramente andrà via a fine stagione. Tristemente. Poi. Se avverrà il miracolo. Delle plusvalenze. Bene. Quindi magari. Iputizzo. Una vendita a 40 milioni. Ma anche lì. Sarebbe una. Una piccolissima plusvalenza. Perché poi devi contare anche il contratto. Lo stipendio e tutto. La Juve di Maran ragazzi. Ok. Zitto. Zitto. Maran. Sembrava essere quello che era. Era da un passo dalla B. Sembrava quello che poteva portare al fallimento. La Juventus e tutto. Sembrava invece quello che. Tutto sommato. In questa stagione. Non sta facendo male. Attenzione quindi a sottovalutare l'impegno. La Juve è sesta. La Juve è comunque lontana. Dalle prime posizioni. Sicuramente. Non credo. Riuscirà a rimettersi in corsa per lo scudetto. Ma. Non sono ripeto. Tanto distanti. Soprattutto dalla posizione per la Champions. Con Ancelotti abbiamo perso. Pedro. Mamma mia. Scesni. Con invece Arteta. Non lo sappiamo. No. Con Arteta anche abbiamo perso. Non lo sappiamo. E come se lo sappiamo? La Juve è stata credo la terza partita di Arteta. Ricordiamo bene con il nuovo allenatore. Perché ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Danilo. Di prima per Vlaovic. Attenzione Chiesa perché dorme. La difesa è il Milan. E forse ha dormito anche Chiesa perché. Maggiore lucidità avrebbe portato la Juve sicuramente in vantaggio. Zaccagni. Perfetto preciso. Come Chiesa però è impreciso là davanti. La differenza dello stato di condizione. La Juve è una condizione quasi perfetta. Il Milan è uno stato pietoso. Qui. Il grande allenatore viene fuori. Perché se Arteta è bravo a gestire bene i cambi. Può ribaltare tutto. Danilo. Però la Juve si distende molto bene. Il movimento è perfetto di Vlaovic. Così come perfetta la parata di Mignan. Quindi cambi per la Juventus. Cambia anche per il Milan dentro del chetelare al posto di Pobega. Allora vediamo un attimo se il Milan ha fatto altri cambi. No. Solo uno. E qua stupisce Arteta perché un quarto d'ora al termine con una squadra così stanca ha fatto solamente un cambio. Alla fine in realtà i cambi sono stati fatti. Solamente che mi sono sembrati più dei cambi per difendere il risultato piuttosto che per provare l'assalto finale. Dal momento che avevi un 6 e mezzo di Iaz. Un 6 e 4 di Pedro. E un 6 e 7 di Ricci. Quindi avrei provato diciamo a inserire Leonardo, a inserire Castrovilla, a inserire Ziyech. Cioè avrei fatto a inserire Turam. Invece Zanoli, ciao Valeri. Più per difendere per me il risultato piuttosto che per provare l'assalto finale. Pobega. Contratto migliore. Contratto migliore. Andiamo di carismatico. Ma qui sono davvero così influente. No. L'ho detto soltanto per tenerti buono. La verità è questa. Pobega. Meriterebbe il rinnovo. Domanda. Dovrebbe essere Vivaio Milan. Credo di sì. Assolutamente. Vivaio Milan. Vivaio nazionale. Duttile. Può stare un po' ovunque. Certo non è eccezionale. Ma io il rinnovino glielo faccio. Chiaro. Qua non è il rinnovino. Qua è il ritocchino. Perché la scadenza è distante. Facciamo quasi 6. Salta la trattativa. Salta la trattativa. C'era un limite. Cioè non me la sentivo di andare troppo oltre. 6 milioni pobega qui. Sono pochi i giocatori che guadagnano così tanto. Cioè sarebbe stato tipo poco sotto Bremen Diaz. Secondo me un po' troppo. Milan che non fa turnover. Non lo fa. Non lo fa. Mi sembra anche giusto. Abbiamo comunque tempo per preparare poi la partita. Nel derby contro l'Inter. Stessi punti del Napoli però con la concreta possibilità di andare a più 3. Quel più 3 potrebbe concretizzarsi definitivamente nel match contro l'Inter. Che sarà appunto il recupero della giornata persa per vedere l'Europa League. Ed è corner Milan. Luisa Alberto dentro. Gunter allontana. Attenzione Poudence. Intanto è rientrato Luisa Alberto. Dopo... Eh dopo. È rientrato Luisa Alberto dopo ragazzi. Ma perché? Perché gli scudetti si devono decidere per questo motivo? Qua c'è il VAR. Che può confermare o smentire l'espulsione. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Per me il cartellino comunque arriverà. E non quello giallo ma quello rosso. Più per il Doria. Perché Murillo, Augello, Rincon. Secondo me uno di questi. Se Stankovic non li cambia. Finiranno in 10. In possesso del pallone. Gabbiadini si abbassa. Vierà. Apre. Poi per Podence. Nel seguimento va Teo Hernandez. Gabbiadini, Mignan. Mamma ragazzi. Che miracolo. De Pauli. Podence, Ivanosez. Il ritardo è Tomori. Ivanosez calcia male. Il migliore in campo è Mignan. Perché probabilmente il tiro di Gabbiadini è stato veramente un tiro sicuro. Una botta che la palla lì con un portiere diverso sarebbe sicuramente entrata. La dice lunga ragazzi. Il migliore in campo Mignan la dice decisamente lunga. Il Milan non ha giocato bene. Il Milan si gioca adesso lo scudetto nel derby contro l'Inter. Qui come spesso capita. Effettivamente. Come anche in diverse squadre. Quando non segna l'attaccante principale. E poi tutta la squadra comunque va abbastanza in difficoltà. Pedro si è bruscamente fermato. Cioè Pedro abbiamo adesso l'andamento che lo ha visto. Segnare consecutivamente. Contro Villareal. Contro l'Astrio. Poi una partita a secco. Poi tanti gol consecutivi. Però adesso siamo già a tre gare senza segnare. Non era mai successo da quando appunto è in Italia. Da quando veste la maglia del Milan. Anzi. È già successo. Ma giocava poco. Qui invece stiamo parlando di un giocatore che comunque viene coinvolto per tutti i 90 anni. 40 minuti. Ormai punto di riferimento di quel reparto offensivo. Allora ragazzi. Derby Scudetto. Sarà un campionato che non vedrà una vera e propria protagonista. Ne ha viste tante. Però a vincere sarà una. E speriamo che questo possa essere il Milan. La formazione credo che sia davvero la titolare. Chiaramente Benassero non è ancora in condizione. L'Inter di Inzaghi non viene da un buon periodo esattamente come il Milan. L'Inter di Inzaghi che oggettivamente è un incubo a vedere questo 11 sinceramente. Ci sta che siano settimi perché veramente non offrono davvero qualità là davanti. Satriano Correa. Bah. Coppia d'attacco della prossima stagione? Potrebbe. Don Fristeso. Correa. Oh mamma ragazzi Correa. Cioè non era neanche un rigore in movimento. È un gol mangiato proprio fortissimo. Però guardate il morale del Milan. Il morale dell'Inter. Il Milan è depresso. Il Milan ha il morale proprio a terra. Può calciare. Ci prova un'ana in due tempi. Dentro Zaccagni. Mamma la deviazione dell'Inter che stava per sorprendere un'ana. Non vedo cambi. Non ci sono. Siamo al sessantesimo. Partita bloccata sullo 0-0. Males intanto. Attaccante dell'Inter attualmente al Basilea. Punizione Milan. Il mago. Luisa Alberto. Mamma mia. Niente. Minuto 72. Sempre 0-0. 5 minuti. Più eventuale recupero. 0-0 il derby di Milano. 4 minuti di recupero. Il Milan non sa più segnare. E pareggia anche il derby. Il Milan pareggia anche il derby. Poi analizzando bene la partita. È un pareggio immeritato. Avremmo meritato sicuramente di segnare. Però ancora una volta. Fa discutere questa presa di posizione. Nella partita di Arteta. Che decide in certe partite. Di non fare proprio cambi. Ci ricorda abbastanza Pochettini in questo. Però. La dovevi vincere. Sì. Ragazzi. Sì. 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 Ma io. So le critiche ci stanno. Però mi sono comunque mosso. Sbagliando. Nel dare troppa fiducia all'allenatore. E nel dire. Figurati se valorizzerà. Se non riuscirà a valorizzare. Marco Solonardo. Cioè. A me. Il grosso errore alla fine. È Marco Solonardo. Cioè. Io ero convinto. Che. Chiunque. Pochettini. Pochettini. Non ho perché non ci ha puntato. Ma Ancelotti Arteta. Ero sicuro nell'utilizzo di questo giocatore. Ancelotti l'ha utilizzato. La gran parte delle presenze fatte da Leonardo. Sono state con Ancelotti. C'è stata voglia di farlo giocare. Lui però non ha mai convinto. Quindi è stato lui. Da lì nasce. Sono nati poi tutti gli errori fatti in estate. Qui qualcuno in chat l'aveva detto. Qualcuno in chat l'aveva detto. Attenzione. Alla Champions. Qui non è tanta attenzione alla Champions. Qui è attenzione all'ansia Champions. È un Napoli che si giocherà la semifinale con Atletico. Il Napoli perde. Ma la cosa che sorprende è che sono due sconfitte in casa del Napoli. E potremmo potrebbe davvero presentarsi l'occasione di giocarsi lo scudetto all'ultima con la Roma. E vinciamo 6 a 0 con la tripletta. No con i 4 gol di Pedro. Con Zaccagni e con Diaz. C'è da dire che grazie a sta partita Pedro ha aumentato di molto i suoi numeri. I suoi gol col Milan. Perché sono 20 presenze e 17 gol. Il Napoli intanto si è ripreso in campionato. Mi chiedevate di Teo Hernández e se si è fatto male. Teo Hernández e se si è fatto male. Sì. 3 settimane. Questa partita ci vedrà senza Teo Hernández. Contro un'Atalanta che ci ha sempre, dico sempre, messo in crisi. Giocherà Valeri quindi. Ciao Tomori. Calulu. Calulu. Terzino destro. Prima volta credo che lo vediamo in stagione. Quello è il suo ruolo. Quello è il suo ruolo all'interno di FM. All'interno di FM e Calulu in quel ruolo fa letteralmente quello che vuole. Vediamo ragazzi. Qui in realtà potremmo anche accontentarci di un pareggio. Ma il pareggio renderebbe il tutto complicato. Perché non ci darebbe, diciamo, la possibilità di giocarci il bonus pareggio contro la Roma. Schiacciate il Milan. Schiacciate il Milan. Schiacciate il Milan. Pasalic. Il gol dell'ex. 1 a 0. Mele. Incredibile. Pasalic. 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 La doppietta dell'ex. Ederson. O abbiamo l'episodio chiave. L'episodio che ci salva. L'espulsione di uno dell'Atalanta. Magari espulsione più calcio di rigore. Così. Oppure dura. Valeri non difende. Qui l'arbitro ferma il gioco. Calcio di rigore per l'Atalanta. Non so neanche per cosa. Finceramente non so neanche per cosa. Abbiamo anche l'arbitro contro. Però adesso diventa anche ancora più complicato. Prontera conferma il calcio di rigore. Non ho capito per cosa. Sinceramente. Proprio non l'ho capito. Pasalic per la tripletta. Pasalic per la tripletta. 3 a 0. Attacco del Milan totalmente da bocciare. Quello visto quest'oggi. Marcus Turam. Non lo vediamo da una vita. Ritorno in campo. Tomori. Cross. Turam. Tomori terzino. Da quando? Avanza Lukman veloce e rapido. Poi recuperato da Zanoli. Allora Ederson da fuori. Mamma mia ragazzi. Ma c'è anche una sfiga questa squadra oggi. Che imbarazzante. La deviazione di Ziyech. Praticamente spiazza Mignan. Ed è addirittura poker per l'Atalanta di Gasperini. Rivediamo il replay. Il destro di Ederson. E chiaramente la deviazione mi sembra un di Ziyech o di Tomori. Non so bene di chi. Come vi dicevo più 2 dal Napoli e meno 1 dalla Roma. Vi ricordo sconti diretti non servono a nulla. Quindi anche se avessimo perso o vinto i precedenti sconti con la Roma non cambierebbe niente. A parità di punti si gioca una finale. Ragazzi. Tragedia. Tragedia chairman mode. Sarebbe veramente tragedia chairman mode. No vabbè. Allora vale tutto. Kovalenko. Bastoni. Rezza. Shomuro dove lo spezia e mi sa che è in prestito da chi? Da che squadra? E' un ex di chi? Di che squadra? Dimmi che non è vero. 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 Abbiamo perso il campionato ragazzi. Abbiamo perso il campionato. Abbiamo perso il campionato. Abbiamo perso il campionato. Ragazzi. Finisce qui il campionato. Era già finito prima. Finisce qui. Finisce qui. Finisce ufficialmente qui. No. Come ha perso la Roma? Non è vero. Non è vero. Dimmi che tipo ho tante espulsioni. Dimmi che non è stata una vittoria meritata del Toro. Minchia aveva perso la Roma. Aveva perso la Roma. Aveva perso la Roma. Ha perso pure il Napoli? No. 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 Non l'avevo vista anche la sconfitta del Napoli. Non l'avevo vista. Non l'avevo vista. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Anche il pareggio colludinese ci poteva stare. La madonna. Ci poteva stare anche il pareggio colludinese. Una partita di merda. Un bel pareggio di servizio. Mamma mia. Non ci credo. Non ci credo. Roma-Milan. Lo stadio dalle grandissime occasioni. Perché potrebbe nascere poi la festa scudetto per i giallorossi. Che dopo più di vent'anni. Dopo ventiquattro anni potrebbero tornare ad essere campioni d'Italia. Questa la Roma di Daniele De Rossi. Questo il Milan di Arteta. Il Milan della trettottesima giornata che si presenta con la titolarissima. La classifica che vede la Roma a 75. Napoli a 72. Fiorentina. Milan a 71. Atalanta-Inter. A quota 70. Non ha senso darvi Arteta. Abbiamo preso la stagione in corso. Un contratto assurdo. Potrebbe essere intanto rigore per la Roma. L'intervento e il ritardo di Brem Diaz. Che non aveva il ben che minimo senso quell'intervento. Carasol ormai la stava mettendo. Non era una situazione particolarmente pericolosa. E qui... Biraghi. Ex Inter-Fiorentina. Mignan. È una partita che non offre niente. Si vede che la Roma ha paura di esporsi. Ha paura di perdere. È un Milan però che... Sembra avere gli stessi timori della Roma. Mancini. Ricci. Ricci. Perché è crisi. Perché è tutto brutto. Ma abbiamo ancora la possibilità... Di... Stavo esultando fortissimo. Era tu... La frase era fatta. Era completa. Era completa. La Roma è campione d'Italia. E per il secondo anno consecutivo è il Milan a consegnare lo scudetto a una squadra. L'anno scorso abbiamo visto i festeggiamenti del Napoli. Perché il Napoli è diventato campione contro di noi. Quest'anno contro la Roma. Io sorrido. Io rido perché è una risata un po'. Voi dite sei come acerbi. Maledetto. Io rido perché non mi sembra vero. Vi giuro. Non mi sembra vero. Non mi sembra vero. Non mi sembra vero. Incredibile ragazzi. No, no. Non ha senso. Non ha senso. Quello che è successo davvero in quest'ultima mezz'ora di live. Non ha proprio senso. E non solo ragazzi Roma campione d'Italia. Non solo. Magari. Potrei dire così. Solo Roma campione d'Italia. Ma Milan in Europa League. Voi sapete. Cioè. Volete sapere una cosa. Io ho una paura. Intanto vabbè. Intanto vabbè. Guardate anche l'ordine. Cioè davvero. Proprio il senso dell'ordine della classifica di Serie A finale. Roma 76. Napoli 75. Fiorentina 74. Inter 73. Atalanta 73. Milan 72. Sassuolo 71. Proprio la bellezza di questa classifica finale. Ne sono consapevole Giammi. Sì. Eravamo pari col Sassuolo. E si sarebbero visti gli sconti diretti. La sensazione è che avremmo comunque avuto il vantaggio. Gli sconti diretti col Sassuolo. Perché li abbiamo battuti. All'andata e anche al ritorno. Pensare a questa stagione. Milan 72 punti. Milan passata stagione. Con Pocettino. Era un Milan diverso. Era un Milan che aveva comunque Raffa Leao. Giro e giocatori esperti. 76 punti. Cioè nella stagione passata abbiamo bocciato Pocettino. Perché ha fatto 76 punti. Chiaro. Era una classifica e un campionato diverso. Un campionato che il Napoli ha chiuso con due giornate d'anticipo. Qua invece è un campionato che si è chiuso l'ultima giornata. È un campionato dove poteva succedere tutto. Tra l'altro con 76 punti. Ci saremmo giocati la finale con la Roma. Possiamo dire che in realtà. In questa esperienza. C'è un bel modo col Milan. Due stagioni. Abbastanza simili. Cioè c'è la differenza di 4 punti. Che sono sicuramente un po'. Cioè nel senso sono pochi. Ma comunque c'è la differenza. Io vi dico. Si può discutere il mercato? Sì. Assolutamente. Ripeto gli errori sono stati fatti. A generale si avevamo fatto comunque un bellissimo mercato. Però fino ad una certa secondo me si può discutere. Fino ad una certa. Perché oggettivamente ragazzi. Oggettivamente. Partita come quella dello Spezia. Partita come quella della Samp. Il derby pareggiato contro l'Inter. La sconfitta contro l'Udinese. Cioè secondo me qui si va anche un attimino oltre poi. Il semplice mercato sbagliato. Ci sono state proprio partite strane. Cioè la sconfitta in casa con lo Spezia. Contro il Palermo. Non hanno senso. Capite bene che non hanno senso. Questa avventura della Cermen merita di continuare. E se siccome. Andando in una nuova società. Rimanendo al Milan. Cercando di sistemare un po' tutto. Oppure ripartendo da zero. E magari facendo una nuova Cermen. Una nuova avventura. Io sinceramente vorrei continuare un attimo per chiudere un po' Il ciclo. Cioè per alla fine ottenere qualcosa. Cioè per alla fine ottenere qualcosa. Cioè per alla fine ottenere qualcosa.